Bene, adesso lasciamo il microfono ad un giornalista che conosciamo tutti perché è famosissimo ormai grazie alla sua attività attraverso il Sole 24 Ore, attraverso servizio pubblico e Gianni Dragoni è qui con noi, lasciamo il microfono a lui e lo ascoltiamo. Buonasera, grazie. Io mi scuso in anticipo se non potrò seguire poi la proiezione perché appunto c'è un impegno successivo a cui mi devo preparare, ma dirò poche parole perché poi ho parlato già troppo anche con gli amici che hanno fatto il film, quindi avete modo di sentire. Il film ha qualche anno, ma purtroppo sia per i fenomeni negativi, i suicidi, i drammi degli imprenditori, i drammi del lavoro, che diciamo è ancora molto attuale, ma lo è anche per quello che io credo sia l'altro dramma, l'altra sciagura della società italiana. E diciamo che io col mio lavoro in piccolo, a volte anche con fatica, ho cercato di far emergere perché è quello che mi ha un po' colpito nel tempo. E cioè quello che c'è una componente della società, quella del ceto detto imprenditoriale, che poi nel mondo dell'informazione, giornali, tv, eccetera, finisce spesso per essere quello dei grandi imprenditori, che a volte non vengono, stavo per dire indagati, ma dall'informazione, perché poi io vedo il lavoro del giornalista come uno che deve sempre cercare di scavare. E quindi fa una piccola indagine, non con i mezzi potenti che hanno le autorità che poi spesso non li usano, altrimenti non ci troveremmo nella situazione in cui siamo con evasione fiscale e corruzione, in cui se non siamo il record, il paese record del mondo, comunque siamo sicuramente sul podio olimpico. Allora questo mondo di capitani d'industria, della finanza, delle banche, che poi sono quelli che io definirei i capitani della crescita zero, adesso è diventata anche sotto zero, ma comunque irresponsabile di una crisi, perché più che imprenditori, molti di queste figure, secondo me, sono dei prenditori, cioè prendi i soldi e scappano, spremi, e poi ci rimettono sia i lavoratori, sia gli imprenditori anche più piccoli, o gli artigiani, quindi non è che la qualifica autonomo o dipendente di per sé stabilisca se uno è della parte buona o cattiva, sono i comportamenti, sono l'essere debole, l'essere piccolo sostanzialmente, come sono anche le storie degli imprenditori che il film di Filippo Soldi, Alessandro Tartaglia Polcini e gli altri che hanno collaborato ha messo in mostra. Allora, in questo racconto, adesso vado avanti un po' rapidamente, io ho prenditori o capitani coraggiosi che periodicamente fanno un ride e diciamo si appropriano del grasso di quello che c'è, i capitani coraggiosi li abbiamo visti all'opera con la Telecom, quando Colaninno, governo D'Alema, fanno, diciamo, io la definisco una razzia perché prendono una delle società più liquide, più ricche, la comprano con le sue risorse perché poi fondono i debiti che hanno fatto per comprarla nella società e quindi loro non hanno più debiti ma i debiti sono nella Telecom. Qual è il futuro? Questo avviene intorno al 2000, al 99, nel 99, poi dopo due anni se ne vanno, arriva Tronchetti Provera, altri debiti, risultato 15 anni dopo, la Telecom ha ancora più problemi di prima, si è ridotta, si è come azienda, come occupazione, come fattore di sviluppo, tant'è che giusto, sbagliato che sia, il tema di cui si sta parlando, agenda digitale, banda larga, banda ultralarga, con questa parola banda che forse andrebbe usata in un altro modo, ma la banda ultralarga, io direi che noi non abbiamo un deficit di banda larga, purtroppo la banda larga ce l'abbiamo ma non è quella del cavo che deve correre sotto terra ma è un'altra, sta sopra la terra. E quindi c'è questo deficit che incide anche poi sui costi, sulla competitività, sulla capacità di educazione, di formazione per chi studia, per chi deve informarsi, per chi deve accedere ai servizi e quindi vediamo che questa operazione poi ha un riflesso pesante per tutta la collettività. I capitani coraggiosi ritornano poi con una storia che conosciamo bene da vicino, quella dell'Alitalia e c'è sempre Colaninno a fare il capo cordata, chissà perché. Poi anche questa esperienza è giunta al fallimento ma di nuovo, se parliamo dell'Alitalia, è stata salvata sempre perché le banche, pur di non far fallire la società dei capitani coraggiosi, perché fallimento avrebbe voluto dire anche possibilità di indagini penali con eventuale accertamento di comportamenti di reati. Io non dico che ci siano però avrei voluto vedere che qualcuno andasse a vedere meglio quello che è successo. Però hanno rinunciato ai crediti, 6-700 milioni ma probabilmente di più di crediti e così l'Alitalia che prima non si poteva vendere, nel 2008 Berlusconi disse di no, non la diamo all'Air France perché si perde l'italianità, adesso è stata data agli arabi di Etihad e questa volta non ho sentito nessuno, diciamo nessuno nella parte almeno di tutta la maggioranza allargata dire che si perdeva l'italianità. Se quello era un valore prima forse allora andava preservato ancora, ma italianità non significa sempre fattore positivo, non necessariamente, anche se in questo caso credo che si sia ceduta un'azienda che può essere strategica e forse meritava prima di trovare un'altra soluzione. Io credo che nel 2008 si sarebbe dovuta prendere un'altra strada. Andando rapidamente a oggi, un altro caso, questi grandi prenditori, questi grandi protagonisti che appaiono sulle copertine patinate o tutta pagina, interviste sui giornali, quando falliscono per loro le banche ci sono sempre e sono sempre più generose. C'è stato il caso di Zaleschi, questo imprenditore franco-polacco molto amico del presidente di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, che ha superato gli 80 anni e quindi come era napolitano ancora 7 anni davanti di regno. Infatti lui ha detto, si sente vecchio, no, quando sarà il momento, lo saprò io, quando è il momento di farmi da parte. Ebbene, Bazzoli, che è il banchiere che ha prestato, questa è una notizia che l'aveva scritta il fatto, l'avrete letta tutti, ha prestato senza battere ciglio, non mi ricordo se era un milione o 500 mila euro, ma credo più un milione, a una signora che si era presentata con delle credenziali, dicendo di essere parente di Napolitano. Non era vero e comunque il prestito l'ha avuto senza dare delle garanzie alla banca, a Banca Intesa San Paolo. Allora, Zaleschi è un finanziere che aveva accumulato una serie di pacchetti azionari di società strategiche, ma strategiche nella vagnatela del potere, pacchetti di Mediobanca, pacchetti di Banca Intesa San Paolo e di altre banche, e di altre finanziarie. Non aveva denari propri, i soldi gli avevano prestati le banche, con i soldi delle banche aveva comprato pacchetti delle banche. A cosa servivano? 2, 3, 4, 5% di banche che non avevano, che non hanno un padrone unico. Quindi questi pacchetti azionari servivano a puntellare il potere di chi gli aveva prestato i soldi. Nel momento in cui la borsa dal 2008 in poi ha cominciato a perdere quota, questi pacchetti si sono svalutati e siccome garantivano i prestiti che aveva avuto, le banche hanno cominciato a chiedere il rientro. Però lui non poteva rientrare perché avrebbe dovuto vendere buttando ancora più giù il valore dei titoli. Risultato? Le banche hanno fatto un accordo e gli hanno prestato altri soldi, perché sennò sarebbe fallito e forse molti, anche i banchieri probabilmente, avrebbero avuto dei problemi. Avrebbero forse perso anche il posto, non solo visto ridursi il loro stipendio. Però nel fare questo le banche si sono divise in due. Le banche che avevano prestato i soldi erano banche straniere e banche italiane. C'è stato un gruppo di banche che ha detto noi ti diamo altri soldi per andare avanti, poi gli hanno messo un loro uomo come se fosse un commissario a guidare la società di Zaleschi. E un gruppo di banche invece ha detto no, noi vogliamo essere rimborsati e ce ne andiamo. Indovinate chi è tra gli stranieri e le italiane, chi gli ha prestato altri soldi e chi invece ha detto prendo i soldi e me ne vado. Cioè gli stranieri hanno detto dateci i nostri soldi e noi ci ritiriamo. E così via. Ultimo, ma potrei citare Zunino, Ligresti che vedrete citato, ma c'è un altro imprenditore importante di cui però si parla poco sotto questo aspetto, che è Carlo De Benedetti, proprietario di anche importanti testate giornalistiche, nonché tessera numero uno del PD, così si autodefinì almeno, quando il PD ancora non c'era. Forse potremmo dire tessera numero zero. No, nel senso che era il numero zero del PD, era la tessera numero zero, l'esperimento. Una società importante di De Benedetti, la Sorgenia, ha fatto degli investimenti, forse dire investimenti è una parola grossa, perché quando c'è l'investimento c'è il rischio. E molti di questi imprenditori lavorano col risultato garantito, poi quando c'è il problema lo scaricano sulla collettività o sulle banche, che poi le banche lavorano con i soldi dei risparmiatori, quindi sempre della collettività. La Sorgenia non ce la faceva più, ma non è fallita, perché le banche hanno accettato di rifinanziarla e di convertire i loro crediti in pacchetti azionari, che poi piano piano un giorno dovranno cercare di scaricare. Finiamo con Marcegaglia, Emma Marcegaglia, ex presidente della Confindustria, Renzi l'ha nominata presidente dell'ENI, la società italiana più importante. Mi ha colpito di recente vedere, credo fosse alla LUIS, un seminario, un dibattito sul problema della corruzione. C'era l'ex ministro Paola Severino e uno dei temi era che siccome l'Italia negli indici internazionali di Transparency International, della corruzione percepita, diciamo viene sempre percepita come molto in basso, ma evidentemente loro pensano che sia più in alto, la Severino ha detto che in realtà ci vorrebbe un indice che misuri più chiaramente la corruzione. Lei che ha fatto il ministro della giustizia ed è avvocato, forse i mezzi li ha avuti anche per accertarla. Però nella stessa occasione anche Marcegaglia ha detto che ci vuole uno sforzo maggiore per combattere la corruzione. Io mi sono chiesto se sia la stessa persona della impresa Marcegaglia che nel 2008, quando lei stava per diventare presidente della Confindustria, ci fu un patteggiamento, cioè fu condannata, fu patteggiata una condanna, perché il patteggiamento è una condanna, non è qualcos'altro, per corruzione perché Antonio Marcegaglia, fratello di Emma Marcegaglia, aveva dato una tangente a un dirigente dell'ENI per avere un appalto. Quindi forse è un caso di omonimia oppure no? Grazie.